Oggi presentiamo i risultati del programma di sviluppo rurale della Puglia, un programma che ha una dotazione importante di oltre 2 miliardi di euro. Presentiamo appunto i risultati quest'anno, quest'anno è stata un'ottima annata. Abbiamo recuperato il tempo perso negli anni scorsi per questioni legate a ricorsi e contenziosi, abbiamo recuperato tutto il terreno, abbiamo superato finalmente la media europea, siamo al 64%, siamo riusciti a spendere oltre 260 milioni di euro, a pagare le aziende agricole che mai come in questo periodo avevano bisogno dei ristori e delle risorse europee e regionali per poter fare i propri investimenti. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e vogliamo condividere questa informazione con i media e con i cittadini pugliesi.